Diminuisce il tasso di positività al covid-19 in provincia di Teramo. Nell'ultima settimana la percentuale è passata dal 5,99% al 4,33%, un dato che fa tirare un respiro di sollievo agli operatori sanitari impegnati a combattere questa pandemia. Ad oggi nei tre ospedali teramani sono ricoverate 163 persone. L'età si attesta tra i 50 e i 60 anni, mentre a differenza dello scorso anno sono pochissimi gli ultraottantenni ospedalizzati. Il covid è una patologia difficile da pronosticare perché ci ha dimostrato più volte di cambiare nel tempo e di metterci così in difficoltà. Però certamente un dato di una riduzione sul territorio è una buona notizia perché solitamente dopo una settimana, dieci giorni, noi vediamo la riduzione sugli ospedali e dopo un periodo analogo vediamo la riduzione anche sulle terapie intensive. L'altro dato è sull'età, cioè gli over 80 sono in pochi ad essere ricoverati? Pochissimi, veramente pochi. Sono tutte persone o che non hanno avuto il vaccino per motivazioni varie oppure che hanno avuto la prima dose e questi generalmente vanno molto meglio rispetto a qualche tempo fa. Quindi, secondo me, la prima dose di vaccino ha dimostrato di avere un effetto protettivo che non è la non espressione clinica di malattia ma una espressione più soft che comunque noi prendiamo sempre in maniera molto positiva. Intanto continua senza sosta la campagna vaccinale dell'Asla di Teramo. Nei prossimi giorni arriveranno quasi 12.000 dosi di vaccino tra Moderna, Pfizer e AstraZeneca. In settimana, quattro squadre dell'Adi raggiungeranno a domicilio gli ultraottantenni allettati ed è tutto pronto per iniziare a vaccinare i 2088 disabili della provincia insieme ai caregiver. Un percorso particolare sarà riservato agli autistici. Questa settimana avremo una grossa fornitura di fiale di vaccino. Questo ci consente di attuare la nostra programmazione, di portare avanti la nostra programmazione innanzitutto con gli ultraottantenni che sono allettati, quindi che non possono deambulare e quindi dovremmo fare a domicilio. Li raggiungeremo con quattro squadre idoneamente predisposte dell'Adi che andranno lì sul posto e questo è ovvio che si tratta di un procedimento un po' più lento rispetto a quello che ha visto la vaccinazione degli ultraottantenni nei centri vaccinali. Infine diventano zona rossa i comuni di Sant'Egidio, Sant'Omero e Mociano, allerta massima a Campli, dove sono risultati positivi 14 extracomunitari nel centro di accoglienza per stranieri.